Nel sagno nuove misure fiscali a sostegno delle aziende agrituristiche, in particolare dal comune di Cole-Sannita, via libera la riduzione del 25% della tassa sui rifiuti e il riconoscimento di due nuove categorie nelle tabelle come utenze non domestiche. Una proposta della Coldiretti Benevento che evidenzia l'importanza dell'iniziativa dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell'emergenza Covid. Due risultati positivi. Uno, l'inserimento nella tabella, nell'allegato B, dell'attività agrituristica e del B&B. E l'altro è la riduzione del 25% delle tariffe. L'inserimento della tabella B dell'agriturismo con una tariffa agevolata che è ben diversa dalle tariffe applicate per le altre attività ricettive. Parliamo di tariffe paragonate e equiparate al tariff Tari per le zone residenziali. L'ospicio dunque è che questo progetto possa trovare la condivisione anche di altri centri sanniti. Questa delibera sicuramente fa da apripista per gli altri comuni del Sannio. Intanto, nonostante le difficoltà a causa del lungo stop imposto nei mesi scorsi dall'emergenza Covid, gli agriturismi continuano a far registrare segnali positivi dopo la riapertura e che lasciano ben sperare per il futuro. L'attività sta rispondendo bene. La fortuna è che gli agriturismi hanno ampi spazi all'aperto e quindi possono svolgere la loro normale attività attenendosi a quelle che sono le disposizioni governative. Grazie a tutti.